Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcune informazioni di servizio per una migliore fruizione del webinar. Buongiorno. Vi preghiamo di mettere in mute il vostro microfono e di disabilitare la proiezione video della vostra webcam. Per garantire una migliore fluidità dei contenuti, vi invitiamo a scrivere domande e richieste utilizzando lo strumento di messaggistica istantanea. Le domande saranno produttate e sarà data risposta puntualmente o al termine della sessione. Vi avvisiamo sin da ora che la sessione sarà registrata. Al termine condivideremo con i partecipanti sia la videoregistrazione che la presentazione. Adesso lascio la parola al collega Francesco Salvini che rappresenta la strategia aziendale in merito alle soluzioni di infrastruttura e security, il TT Tecno Sistema. Vi ricordo di mettere in mute il vostro microfono e di disabilitare la proiezione video della vostra webcam. Buona giornata. Buongiorno a tutti, sono Francesco Salvini e vi do anche io il mio benvenuto. Vi rubo solo qualche attimo per presentarvi la Tecno Sistema di oggi. Allora, come dice il nostro Presidente, una storia che nasce da lontano. Dal 1984 lavoriamo quotidianamente per ascoltare i nostri clienti e ideare soluzioni innovative in campo informatico. Le persone, questo è il nostro segreto. Perché per noi la tecnologia è una questione di idee e non di algoritmi, una questione di uomini e non di macchine. Questo è lo spirito con cui TT Tecno Sistemi è cresciuta e continua a crescere. Riccardo Bruschi Siamo nati nel 1984. Negli ultimi anni, rispetto a quello che è stato il trend del mercato, abbiamo sempre raggiunto una crescita e raggiunto i nostri obiettivi. Il fatturato che oggi vi faccio vedere è quello del 2018, intorno ai 43 milioni di euro. Quest'anno abbiamo chiuso, ancora i dati ufficiali non ci sono pervenuti, ma siamo intorno ai 47-48 milioni di euro. Salvo coronavirus che purtroppo ci riduce e ci costringe a effettuare un webinar di questo genere, non una power breakfast, confidiamo di mantenere e di consolidare il nostro fatturato, se non aumentarlo, che è lo spicchio di tutti, ma non è detto che sia raggiungibile. Però siamo degli ottimisti. Allora, l'azienda è formata da 150 persone, anche se con il nostro network arriva a 500 figure, in partecipazioni esterne e partner. Copriamo circa 300 certificazioni tecniche, ma le certificazioni secondo me più importanti che fanno vedere quello che è l'azienda dal punto di vista di etica e di presentazione al mercato sono le certificazioni ISO, la parte CRIBIS Rating 1 e la legalità a due stelle, che nelle aziende del settore non sono così comuni. Fra le certificazioni tecniche abbiamo anche un ambassador d'Arcapie, che per il mondo enterprise è un punto di riferimento. A oggi al mondo esistono solo 100 ambassador per il packet enterprise. Il modello di TecnoSistemi è incentrato all'innovazione, a quello che è la parte architetturale e infrastrutturale legata a progetti e servizi. La storia di TecnoSistemi nasce dal punto di vista di essere un sistema integrato. Oggi si è evoluto. Parte con un'offerta legata a cloud, open stack, server, storage e tutto quello che è il mondo data center. Da lì partiamo a workflow e document management, cyber security, SOC, CM e GDPR, che sono gli ambienti legati a security in process. Per tutto quello che è la digital innovation, dalla realtà aumentata, da quello che è la virtual reality, IoT, tutto quello che è un mondo che oggi sentiamo che ci circonda, che viene spinto da tutti. Ecco, noi siamo quel sistema integrato che è in grado di orchestrare il tutto. Logicamente la nostra forza non può essere legata alle 150 persone dei dipendenti aziendali, ma ha bisogno di un ecosistema più ampio. Tant'è che il nostro modello di business è quello di avere una serie di partner in cui per una parte abbiamo una partecipazione societaria e questo ci serve per poter far valere non tanto la parte di revenue e di business, ma quanto la nostra forza di vendita, la nostra strategia, il fatto di poter andare sul mercato con queste partnership in modo forte. Fra qui potete vedere che abbiamo le più significative per la compliance normativa il gruppo di consulente legale informatico che è Colin. Ve li dico secondo me in ordine di importanza per quello che è il momento storico che stiamo attraversando. La parte cloud data center con i RIDEOS, qui manca Microsoft per la parte cloud pubblico, però ve la racconto io. La parte networking con i rapporti con i Citi Plus, la parte augmented virtual reality con LiveMode, nonostante tutto quello che può essere ricerca e sviluppo legato alla parte di università di... Il resto lo lascio un attimo indietro perché non voglio rubare tempo. Sul mondo security che poi è la giornata di oggi, questa ora di webinar, abbiamo una partnership con Cyberlayer che sono sicuramente il partner più importante a livello territoriale e nazionale riguardo alla cyber security. Lascio la parola a Riccardo. Esco. Eccomi. Se interrompi la presentazione vado io con la mia, così proietto la mia. Vado subito. Grazie. Ed eccoci qua. Voilà. Ok, se mi date un cenno, se vedete la presentazione al mio inizio. Ancora no, Riccardo. Ora. Perfetto, benissimo. Intanto buongiorno a tutti. Grazie per essere qua e grazie a TT, soprattutto per averci ospitato. Io sono Riccardo Baldanzi, sono il CEO di Seven Layers. Con me qui c'è anche il collega Nicolò Vascellari, Sales Engineer. Vi presentiamo prima l'azienda e poi una serie di soluzioni che con Francesco, Federico e Gabriele abbiamo pensato possono essere utili per il momento di smart working. Naturalmente ha cambiato il sistema di fruizione delle risorse informatiche, della metà di lavoro, ma ovviamente bisogna anche poi vedere la parte di security. Ah, intanto chi siamo? Siamo un'azienda verticale nel mondo di cyber security, quindi non ci occupiamo di nient'altro. Abbiamo qua, come si vede dai colori dell'infosec, sia una parte di blue team, quindi una parte di difesa, sia una parte di red team. La parte di difesa, ci occupiamo di proporre, rivendere, gestire, installare e device di cyber security, tecnologie di cyber security. Soprattutto poi ci occupiamo di gestire la parte di allarmistica con il nostro reparto diciamo di Next Generation SOC, che ad oggi vengono chiamati MDR, cioè Managed Detection and Response. Sulla parte di red team, se la seguiamo, l'abbiamo addirittura spin-offata in una nostra azienda che si chiama Wetu, quindi azienda del gruppo Seven Layers Group, e si occupa verticalmente di tutto ciò che è ethical hacking, exploiting, testing di black box, quindi per chiunque di voi produca macchine o quantomeno deve integrare nei propri processi macchine terze parti e ne vuole, diciamo, verificare la fragilità in termini di cyber security. Quando i due team lavorano insieme, nel gergo si definiscono purple team, quindi si aiuta, l'attacco aiuta la difesa nel capire nuove tecniche, la difesa aiuta a capire gli attaccanti come invece sono stati scoperti. Naturalmente non devono essere i team entrambi nostri, spesso collaboriamo sia con il red team altri blue team, sia con il blue team verso altri red team. abbiamo una distribuzione dei nostri clienti, soprattutto in realtà degli end point dei nostri clienti praticamente in tutto il mondo civilizzato ormai, motivo per cui abbiamo, circa due anni fa sì, abbiamo acquistato il 50% di un'azienda in USA e ne abbiamo fondata un'altra a Hong Kong. Questo per un motivo, perché il nostro MDR, quindi il nostro fiore all'occhiello dei servizi, quindi il servizio di monitoraggio delle device di security che installiamo, aveva bisogno di un vero e proprio follow the sun, quindi avere sempre un analista sveglio della giusta caratteristica e giusto skill che prendesse il carico del problema e poi lo andasse a gestire. Naturalmente ci dà poi altri tipi di vantaggi questo tipo di distribuzione delle nostre sedi. Possiamo andare a fare supporto local to local, possiamo andare a fatturare localmente evitando fatturazioni cross border e possiamo ovviamente supportare le vostre branch sia sulla parte del Far East sia sulla parte del Nord America. Ecco, ora entriamo nello specifico delle soluzioni che abbiamo pensato con Niccolò e Francesco per la parte di smart working. Il problema numero uno che abbiamo visto dalle richieste dei clienti il giorno successivo al lockdown in Italia è stata la parte di VPN, ovvero le VPN che ad oggi usavamo fino a 20 giorni fa erano abituati ad avere un numero limitato di utenti concorrenti. Quindi dal giorno del lockdown in realtà tutti, è stata una corsa allo smart working, quindi tutti a casa, tutti connessi, quindi chi si è appoggiato a soluzioni di Teams o di altro per la parte di videoconferenza o chat o audio. Cosa? Un ritorno di un microfono, scusate? No, allora il discorso. Ok, perfetto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato subito a trovare un modo di dare velocemente accessi VPN sicuri ai nostri clienti e da qui abbiamo selezionato lato palo alto la soluzione Prisma Access. Ora Prisma Access era una soluzione che noi avevamo già in portafoglio anche prima e ora vi spiego cosa fa e come può aiutare a prescindere dal momento. Ma in questo momento ha un effetto in più e una resa molto facile. Si tratta di una gestione di firewalling totalmente cloud, quindi quello che in effetti viene chiamato firewall as a service o secure access service edge. Quindi sono delle soluzioni palo alto di firewalling distribuite su il data center di Google in giro per il mondo. Voi in realtà avete un'unica GUI, un'unica gestione, ma avete multi-altry point, quindi laddove c'è un pop di Google voi avete un punto di uscita o un punto di entrata per i vostri firewall. Quindi in pratica cosa sta facendo palo alto? Sta consolidando sia network che security in un unico punto. Quindi la parte di security sta parlando di decryption, CASB, la parte di secure web gateway, la parte di zero trust, DNS, di LPS unboxing e tutta la parte invece di network da SD1, quality of service, IPsec, SSL in un unico punto. Quindi si sta formando sia uno strato di security, uno strato network in un unico punto. Le soluzioni come abbiamo detto prima vanno a consolidarsi in un unico punto ed ho una GUI unica. Il vantaggio qual è intanto? Questi sono i pop a data conosciuta in questo momento di Google, ovvero io posso decidere di far uscire i miei utenti da quei punti, ma posso decidere anche di farli entrare. Quindi nel momento contestuale io ho degli utenti in giro per il mondo con il client VPN Global Protect e per entrare da me in azienda possono passare da uno di questi punti in base alla loro vicinanza. Cosa devo fare io dall'azienda? Devo semplicemente fare un tunnel VPN verso uno di questi entry point. In pratica si sta creando un SD1 o meglio a me piace chiamarla una metropolitan area network interna del cliente on top a un'infrastruttura di palo alto costruita su tutto il mondo di Google. In pratica, prendiamo intanto il problema dei mobile users, questo in realtà già c'era perché i mobile users la parte difficile è proteggerli. Quindi se sono in ufficio, sono collegato alla Wi-Fi e di conseguenza navigo dal mio firewall aziendale dove ho tutta la parte del Next Generation Firewall, lo proteggo lato URL, lo proteggo tutta la parte di download con il sandboxing. Ma appena esce, quindi è connesso sia in 3G, 4G o al Wi-Fi di casa, ovviamente è a rischio. Potrebbe, diciamo, scaricare qualsiasi contenuto. In questo caso, lato mobile, ma anche lato PC. Lato PC si interviene un po' meglio, quindi magari potrei avere dei proxy cloud, però solo per i protocolli proxabili. Quindi l'obiettivo già da subito della parte Prisma Edge sarà quello di mettere in sicurezza la parte di mobile. In questo caso, cosa veniva fatto all'inizio? Cioè, tendenzialmente si utilizzano quelli che si chiamano split tunnel, quindi sono a casa o sono in aeroporto o in albergo. Il client VPN mi fa accedere alle risorse aziendali, però se navigo, navigo dritto. Si può anche decidere di fare quello che era un full tunnel. Il problema del full tunnel qual è? Che io magari ho un link VPN da 100 megabit in ufficio, 100 quanto desidero, però se metto tutti i miei utenti mobili e tutti i miei portatili, tutti in full tunnel, sicuramente non avrò abbastanza banda, perché ormai l'LTE si spinge fino a 100 megabit, le ADSL di casa, alcune, quelle FTTH, ben di più. Quindi se faccio passare tutti per la navigazione dal mio link, dal mio firewall in ufficio, sicuramente non ho abbastanza banda o risorse. Quindi cosa faccio? Vado ad attestarli direttamente sul firewall cloud di Palo Alto, quindi su quello che è... Deciderò di farli uscire con le regole che io ho deciso direttamente da il firewall cloud, quindi non è banda che mi porto in casa, ma se devono venire verso il data center, ovviamente fanno la strada, come si vede nella vignetta di destra, fanno la strada verso sinistra, quindi come se fosse una grande MPLS, dove però io posso decidere dalle policy tutto il traffico da e per, sia internet, sia verso il data center. Lo stesso tipo di approccio lo si può usare anche per la parte di branch, perché ad oggi si parla di SD-WAN, ma si parla anche di MPLS, in questo modo cosa si può fare? Si può andare a unire il traffico delle branch, l'importante è avere una device che possa fare IPSec, che faccia magari molto bene la parte SD-WAN, quindi la parte di connessione remota di access point, di switch, di oggetti, diciamo per la parte di CPE, quindi per la parte VPN, per la mera parte di interconnessione, si può collegarla all'infrastruttura Prisma Access, e questo naturalmente ha dei benefici, ha dei benefici in termini di latenza, perché questa infrastruttura è basata, come dicevo, sull'infrastruttura di Google Cloud Platform, ha delle connettività intercontinentali di tutto rispetto, ha degli SLA garantiti in termini di TTL, e quindi quello che si riesce a raggiungere, poi alla fine è una connessione, una qualità sicuramente maggiore. Come controlliamo questi firewall, in realtà questa entità virtuale di firewall, tramite quello che Palo Alto chiama il panorama, quindi la loro management on premise del cliente, quindi nel caso una VM che viene deployata. A questo punto la parte network mi dà il vantaggio di dare connettività a qualsiasi oggetto, anche in un Palo Alto, IPSec VPN, quindi branch retail, la parte di SSL VPN lo posso gestire con il mobile user, sempre posso andare a avere feature SD1 like verso la parte di branch retail, ho una connettività simile ISP, perché la connettività di Google ovviamente è, diciamo di tutto rispetto, e posso andare a gestire anche la parte di clientless VPN, questo perché i portali degli entry point, dei moltiplici entry point di Palo Alto, ti permettono di avere un'interfaccia web dove poter ripubblicare le applicazioni interne HTTP e HTTPS, quindi qui in questo caso si parla di BYOD, ovvero ho delle risorse web interne in azienda, le voglio pubblicare, non devo pubblicarle fuori, innattarle fuori, ma tramite il portal SSL di Palo Alto riesco a pubblicare la singola applicazione dopo ovviamente uno strato di autenticazione. Un'altra feature che va ad aggiungere la parte di DNS security è l'analisi del protocollo DNS, quindi qualsiasi tipo di sfiltrazione, ma anche qualsiasi tipo di connessioni verso le botnet, PC piuttosto che device che vanno a utilizzare tecniche di fluxing per andare a connettersi verso le botnet, vengono rilevate dalle feature di DNS che di norma sono presenti sulle device Palo Alto on-premise, ma in questo caso sono presenti anche nelle soluzioni, nella soluzione cloud di Prisma Access. Anche la parte di track prevention, perché il firewall cloud di Palo Alto non ha niente meno rispetto alle soluzioni on-premise, quindi non è necessario andare a cambiare la device che avete presso di voi, diciamo, lato firewalling, ma è possibile integrarla con le feature presenti in cloud di Palo Alto, quindi si parla sia di application ID, di SSL decryption, tutto il mondo di controllo delle callback, insomma, e via così. È possibile ovviamente introdurre anche una parte di data leak prevention, quindi di DLP, perché c'è tutto un mondo di firme, di pattern da poter intercettare, quindi ovviamente nel transito, quindi da sia lato VPN, sia lato VPN interno branch, sia verso internet e da internet. Questo tipo di infrastruttura è già stata sposata ovviamente da grandissime organizzazioni, in questo caso c'è una azienda di consulenza con 158 branch che le ha tutte collegate con Prisma, noi stessi abbiamo tantissimi clienti retail che hanno deciso di connettere le loro branch utilizzando Prisma Access, naturalmente poi lato retail, lato negozio, lato sede, avevano già delle altre infrastrutture con cui studiavamo bene, ma per noi era necessario un semplice tunnel IPsec verso il POP più vicino. Una soluzione a questo punto che ben si abbina sia a soluzioni Prisma Access ma in realtà alle soluzioni che avete anche voi on premise è una soluzione di multi-factor authentication, questo perché quello che abbiamo visto sempre dal giorno 1 del lockdown è una serie di attacchi phishing mirati a rubare le credenziali di dominio del cliente, quindi mando una mail dove parlo in effetti di Covid e in questo momento chiunque la apre, dove magari c'è una comunicazione aziendale che parla di Covid e chiedo username e password di dominio. Ovvio che ieri questo problema avrebbe messo a rischio solo la posta aziendale perché qualcuno mi rubava le credenziali, ma ad oggi se ho dato le permission, se ho garantito un accesso in smart working vuol dire che metto a rischio anche l'accesso a VPN, quindi se qualcuno mi prende username e password a quel punto potrebbe addirittura entrare in azienda con un tunnel VPN. Motivo per cui abbiamo subito cercato un produttore di tecnologie multi-factor authentication che ci permettesse di integrare anche la parte di accessi VPN, ci siamo guardati in giro, abbiamo trovato Okta per tutto il mondo di multi-factor authentication e le integrazioni con tutto il mondo enterprise del cliente, quindi ben collocato anche sul mondo del Magic Quadrant di Gartner. Come dicevo prima, abbiamo cercato una soluzione che si integrasse con più applicazioni possibili, in questo caso sicuramente Okta ha un ampio ventaglio di integrazioni, in particolare da soluzioni diciamo più network come possono essere quelle di Palo Alto o di tanti altri, ma soluzioni anche di application delivery piuttosto che di cloud come 365, Salesforce, G Suite o insomma chi più ne ha più ne metta. Ora in questo caso che succede? Noi abbiamo un'applicazione, un utente che devono poter entrare. In questo caso io posso fare dei ragionamenti evoluti, quindi non chiedo il multi-factor authentication in continuo, questo perché spesso la user experience del multi-factor authentication è deleteria, perché l'utente è costretto a dare le credenziali, a prendere il codice, cioè quindi il secondo fattore, in continuazione. In questo caso qui si parla di adaptive multi-factor authentication, perché io posso valutare dei contesti, cioè mi stai arrivando da un IP nuovo che io non ho mai visto, questo perché spesso magari l'attaccante cosa fa? Io mi connetto da casa tutti i giorni, l'indirizzo IP è sempre lo stesso o è della stessa subnet, qualcuno mi pesca con una mail di phishing e il prossimo IP è cinese. Ok, perfetto, qui ti chiedo il codice, perché io quell'IP non l'ho mai visto. Oppure la threat intelligence del prodotto mi dice che quell'IP è stato usato per attività malevole, quindi ti chiedo l'MFA. Oppure mi arrivi fuori da un anonimizzatore di network, magari una rete Onion, te lo chiedo di sicuro. Oppure te lo chiedo perché stai utilizzando una device nuova rispetto a quella di prima, quella che hai sempre usato, ne cambi il portatile, ti richiedo il codice perché c'è qualcosa di nuovo. Oppure è una device non gestita dall'azienda. Dall'altra parte è anche la location, come dicevo, mi arrivi da una città, uno stato o una country diversa, ti chiedo il codice. Quindi, per questo che si parla di adaptive multifactor authentication, tutto questo per migliorare appunto la user experience dell'utente, quindi non deve diventare un ostacolo per il lavoro dei vostri utenti. Quindi da qui abbiamo in pratica tutta una serie di attori, i vostri colleghi, utenti privilegiati, aziende esterne, partner o clienti, e abbiamo una serie di risorse, quindi infrastrutture, sia IaaS che on-premise, applicazioni cloud, applicazioni on-prem, o tutto il mondo di public e private con tutto il mondo delle API. L'accesso contestuale appunto dell'MFA li può connettere tutti insieme. Questo per esempio è un esempio di integrazione con il mondo palo alto. Ora, opzione A è quella che funziona con qualsiasi device networking o un radius agent che installo all'interno dell'azienda che mi parla con l'active directory nel caso, quindi un LDAB server e parla poi con la soluzione sia on-premises che cloud lato radius. Okta poi ha invece delle integrazioni sicuramente più spinte nel caso Samel, quindi riesco a integrare lato palo alto senza radius agent parlando direttamente Samel, sia verso ovviamente soluzioni come dicevo prima di palo alto cloud, quindi Prisma Access o palo alto on-premise sempre parlando di Samel. Dall'altra parte posso, io ho tantissimi utenti per esempio che hanno connesso le loro infrastrutture VDI e le hanno pubblicate direttamente fuori, quindi che si parla sia di un terminal server pubblicato via web sia di soluzioni come VMware Horizon, ma è possibile anche qui andare a integrare le soluzioni di multi-factor authentication. Tenete conto che guardavo ieri sera su Shodan c'è stato un incremento di più del 30% di RDP, quindi remote desktop server pubblicati su internet dal giorno stesso del lockdown, quindi vuol dire che in tanti per sopperire alla mancanza di soluzioni VPN ha pubblicato fuori i server RDP, ovviamente questo mettendo a rischio la sicurezza dell'azienda sia perché magari potrebbe esserci le vulnerabilità sia perché magari qualcuno potrebbe riuscire a trovare un'azienda di server RDP. La soluzione si integra anche su tutto il mondo 365, quindi sono costretto o meglio devo andare verso una soluzione di multi-factor authentication perché ormai ho dovuto esporre il perimetro in maniera più importante, posso utilizzare questo tipo di soluzione anche per dare accesso alle soluzioni 365 sempre con una ottica adaptive MFA verso tutta la parte di collaboration di Microsoft. La configurazione è veramente semplice perché naturalmente si parla di due soluzioni che hanno istanze cloud, quindi in ottica sanctioned parlano tra di loro e si configurano. Detto questo, poi dopo lasciamo spazio la parte di domande e risposte, la parte di presenter al collega Niccolò che partirà con tutto il mondo di ProfPoint. Perfetto, buongiorno a tutti, allora mi condivido la presentazione. Ok, riuscite a vederla? Sì, assolutamente Niccolò, puoi andare. Perfetto, benissimo. Allora, grazie, allora innanzitutto appunto sono Niccolò Bascellari, sono un sistema ingegnere all'interno di Seven Lears e vi presenterò due soluzioni che noi abbiamo a portafoglio di ProfPoint che sono in parte interconnesse tra loro. la prima che vediamo appunto è la piattaforma di Security Awareness Training. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che ultimamente diciamo che le minacce odierne non prendono più di mira le persone ma sono attivate appunto dalle persone stesse. Il lavoro degli aggressori viene svolto sugli utenti con, diciamo, attraverso un semplice click dell'utente. Quindi oltre il 99% delle minacce sfrutta gli utenti per l'esecuzione del codice dannoso per esempio un utente che scarica un allegato pericoloso apre il file o fa un click per attivare appunto una macro. Secondo il recente studio da parte della report trimestrale delle minacce di ProfPoint i ricercatori hanno osservato un aumento di circa il 300% delle mail di phishing delle credenziali aziendali come diceva prima anche Riccardo nella sua presentazione. Il successo di questo è chiaramente che il phishing si basa puramente su far illudere gli utenti nel far credere che possano inserire delle credenziali in un sistema che viene ritenuto sicuro per l'utente stesso. Dato che gli utenti come abbiamo visto ultimamente migrano verso il cloud ovviamente anche gli attaccanti cambiano le loro tecniche d'attacco verso i sistemi cloud. Basti pensare appunto che l'85% delle aziende è esposto ad attacchi mirati contro le password e solitamente si tracca di attacchi basati su brute force intelligenti quindi si parte da una password più o meno nota e poi da lì si cerca di ricostruire il pattern completo della password anche perché poi gli utenti è un caso diciamo mai acclarato che utilizzano e tendano a utilizzare diciamo password più o meno simili sui vari strumenti sui quali loro fanno accesso questo ovviamente lascia anche in dire che diciamo circa lo 0,6% degli account attivi dall'interno delle aziende viene attaccato il che vuol dire che non tutti gli utenti sono soggetti all'attacco e quindi è difficile per l'azienda andare a prevenire diciamo gli attacchi e andare ad intuare quelli che possono essere gli utenti più mirati qui poi sono anche elencati diciamo delle perdite che sono dovute ormai agli attacchi di tipo back quindi ai cosiddetti attacchi ricevuti dove si cerca di far mandare il bonifico verso una una destinazione che non è quella originaria si cerca di diciamo fare l'attacco man on the middle dal punto di vista della mail per cercare di appunto di ridirigere il business verso un'altra parte in quest'ultimo periodo soprattutto diciamo da quando il covid ormai è diventato molto diffuso a livello mondiale sono decisamente in aumento le campagne come diceva anche prima Riccardo di phishing e di malspan sfruttando la paura di massa sul coronavirus quindi stanno diffondendo in questo momento pericolosi malware di ogni genere riportato ad esempio come Emonet Trickbot eccetera quindi in questo momento di particolare attenzione da parte di utenti sul coronavirus come diceva anche prima Riccardo mail che contengono informazioni riferite a appunto il coronavirus diciamo sono particolarmente oggetto di attenzione da parte degli utenti come se non bastasse anche l'organizzazione mondiale della sanità avverte l'oms e avverte che gli attacchi di phishing a tema coronavirus in corso e che impersonificano l'organizzazione stessa hanno l'obiettivo finale di rubare informazioni e consegnare virus informatici sostanzialmente alle vittime quindi i messaggi appaiono come inviati dall'organizzazione mondiale della sanità come vedremo dopo che tecniche utilizzano gli attaccanti e inducono poi gli interlocutori a condividere le proprie credenziali rinoltrandoli verso pagine e destinazioni che poi non sono quelle reali ma sono ovviamente le pagine fake e quant'altro quindi anche la polizia postale ha recentemente pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter una maggiore attenzione a questo tipo di attacchi per non coinvolgere e non essere coinvolti in attacchi di tipo phishing quindi questo perché questo diciamo qual è l'obiettivo l'obiettivo sostanzialmente è attraverso la piattaforma di Proforment Security Awareness and Training o diciamo PSAT per semplicità si avvale di un sistema di informazioni sulle minacce leader nel suo genere e oltre che dei principi delle scienze dell'apprendimento per formare le persone giuste al momento giusto quindi far sì che gli utenti finali in realtà non siano dei versali ma siano uno strumento per l'azienda stessa per poter proteggere l'azienda da eventuali attacchi PSAT si avvale di un sistema di informazione sulle minacce leader nel suo genere e oltre che i principi delle scienze d'apprendimento cerca di considerare gli utenti non appunto come parte vulnerabile all'interno dell'azienda ma come essere proprio un fattore di rischio e quindi di diventare degli strumenti nei quali investire al pari di un al pari di un firewall perché comunque io posso investire su tutti gli strumenti di sicurezza perimetrali più efficienti e più efficaci però magari poi la formazione dell'utente è chiaramente un aspetto decisamente importante non solo in questo periodo magari di alta mobilità e di smart working le persone non lavorano più all'interno del perimetro aziendale come vedevamo nelle presentazioni precedenti è possibile adottare comunque dei dispositivi di sicurezza tali per cui rendiamo protetto la postazione nel quale l'utente diciamo effetto al suo accesso però è vero anche che diciamo la formazione dell'utente deve essere qualcosa deve essere assolutamente arricchita quindi quello che si prefigge di fare diciamo la piattaforma PSAT di Proofpoint è quello di sostanzialmente cercare di arricchire la formazione degli utenti in maniera continuativa e non con formazione diciamo lunga e perpetua tale per cui l'utente si annoia nel seguirla ognuno di noi quando ci viene dato da fare un corso di formazione e quant'altro che dura magari mezz'ora o un'ora tendenzialmente si cerca di farlo nel più breve tempo possibile e quant'altro ecco uno dei vantaggi della piattaforma di Proofpoint è che si fa una formazione somministrata sotto forma di pillole quindi una formazione decisamente mirata sulla base della diciamo delle mancanze delle lacune che ha l'utente a seguito di una campagna di phishing mirata ad esempio a seguito di una campagna di assessment e quant'altro e quindi viene fatta una formazione diciamo il più preciso possibile il più mirata possibile e nel momento opportuno quindi nel momento in cui l'utente magari di fronte a una campagna di phishing stimolata da parte della piattaforma che stiamo presentando al momento in cui cade in una campagna di phishing a quel punto viene subito automaticamente coinvolto in un processo di formazione di alcuni minuti dove si mette all'attenzione dell'utente quello che avrebbe dovuto fare per evitare di cadere nella trappola appunto del phishing questo perché perché ovviamente l'obiettivo è quello di fare sostanzialmente di instaurare un approccio multifase per portare a una sensibilizzazione a una formazione sulla sicurezza per il cambiamento dei comportamenti innanzitutto quindi va via la parte di identificazione del rischio quindi la componente della piattaforma proof point relativa all'informazione sulle minacce è composta da vari elementi che possono essere la parte di phishing simulato ma che da solo non è sufficiente per fornire informazioni su quali sono gli utenti che rappresentano un fattore di maggior rischio all'interno dell'azienda infatti la piattaforma si avvale non solo della parte di phishing simulata attraverso le mail ma attraverso simulazioni fatte con ora nel caso di remoto magari attraverso la condivisione di link aziendale diciamo così dove sono presenti della documentazione che induce al phishing stesso oppure attraverso campagne le cosiddette cyberstract quindi delle campagne di assessment dove gli utenti viene posto vengono poste le brevi domande nella logica del quiz dove sostanzialmente l'utente deve rispondere secondo la sua livello di conoscenza come si comporterebbe in una determinata situazione la seconda fase dello sviluppo è quello di creare di cercare di cambiare il comportamento degli utenti quindi dopo aver identificato le persone maggiormente a rischio e su ciò che fanno con i loro click il passaggio successivo è quello di fornire la migliore formazione prescrittiva in base alle minacce specifiche che colpiscono questi particolari utenti e al rischio che tali minacce rappresentano all'interno dell'azienda la piattaforma mette quindi a disposizione un percorso di formazione disponibile in più di 35 lingue con moduli già diciamo preformati da parte della piattaforma che non è richiesto un effort eccessivo da parte dell'azienda nel costruire i moduli di formazione e la formazione ovviamente è mirata su quello che maggiormente gli utenti e quindi il loro fattore di rischio perché venga mitigato inoltre la piattaforma offre anche un ulteriore vantaggio cioè la possibilità di andare a modificare e customizzare i contenuti dei corsi in base alle specifiche aziendali quindi oltre a diciamo tutta la parte che è già precaricata all'interno del portale è possibile customizzarle quindi andare a riscrivere le domande andare a inserire ulteriori loghi andare a creare domande customizzate sulla base magari dell'workflow aziendale perché magari un'azienda ha un determinato pensa che di avere un determinato fattore di rischio a seguito di un tipo di workflow e quindi magari posso andare a crearmi delle domande mirate per un team di persone per poter diciamo mitigare appunto questo fattore di rischio quindi infine al termine del ciclo è appunto come dicevamo la riduzione dell'esposizione del rischio quindi dipendenti correttamente formati e consapevoli della sicurezza sono la sua chiaramente sono la vostra miglior arma di difesa perché chiaramente un utente a quel punto prima di cliccare su una mail magari fa tutta una serie di controlli banali ma che comunque evitano che l'utente magari possa cliccare su qualsiasi tipo di link non solo attraverso la soluzione diciamo l'acronimo il cui acronimo è clear che diciamo vedremo tutta diciamo vedremo nel dettaglio successivamente è possibile dare agli utenti la possibilità di segnalare quelli che per loro possono essere email ritenute a rischio quindi che vuol dire che al di là della parte diciamo di protezione che l'azienda può mettere a disposizione con soluzioni di email prevention come la stessa proof point propone vi può essere anche la possibilità che magari una mail che diciamo per la piattaforma può essere ritenuta benevola l'utente possa trovare dei contenuti o dei riferimenti che non sono effettivamente per lui congrui e quindi può segnalare con un semplice click all'interno del proprio diciamo portale diciamo di post elettronica quindi il client Outlook piuttosto che direttamente dall'applicazione Office 365 nel browser o Gmail nel browser attraverso un semplice click è in grado di segnalare questa 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 mail all'interno del portale è attraverso quindi qua vi è la correlazione tra il sistema di protezione della post elettronica e la piattaforma di LMS quindi learning messa a disposizione per gli utenti che gli utenti riescono a cooperare con l'azienda stessa ovviamente tutto questo non si tratta di un processo una tantum ma come si può vedere anche dalla slide è un'iterazione continua quindi come si può vedere da quest'ultima fase torniamo all'identificazione del rischio vale a dire a una valutazione mirata a verificare l'obiettivo del cambiamento del comportamento quindi io rifaccio poi la campagna di phishing rifaccio la campagna di assessment e vado a verificare effettivamente il processo di crescita dei miei utenti di formazione dei miei utenti e vado a mitigare il rischio dell'azienda nell'esposizione che ho del comportamento degli utenti stessi vediamo adesso un po' più nel dettaglio che cos'è che contraddistingue appunto la piattaforma di Proofpoint Security Awareness dal resto innanzitutto come dicevamo prima si parla di una formazione sulla sicurezza ottimizzata grazie alle informazioni che abbiamo sulle minacce quindi si vanno a mitigare in particolare luogo le persone più attaccate quindi i cosiddetti VAP quindi very attacked people quindi si vanno principalmente a proteggere le persone che hanno dei ruoli chiave all'interno dell'azienda quindi quelli che sono soggetti a attacchi di tipo BEC e amministratori delegati tutti i stile level la parte di risorse umane eccetera eccetera la serie di attacchi di tipo Spotlight di Proofpoint inoltre delinea delle intendenze delle minacce quindi attraverso il team di formazione team di esperti di sicurezza che ha all'interno Proofpoint le campagne anche di phishing che vengono poi alle quali vengono sottoposti gli utenti ovviamente vengono constantemente aggiornate e manutenute per renderle il più reale possibile ovviamente infine attraverso anche diciamo con i clienti che hanno anche la soluzione di sicurezza della posta elettronica basata su Proofpoint attraverso appunto il clear che vedevamo prima è importante perché si richiude diciamo il processo e quindi si dà la possibilità agli utenti di segnalare un'eventuale mail e quindi andarla a richiamare dal sistema di posta elettronica ma diciamo lo vedremo nel dettaglio più avanti tutto questo ovviamente anche grazie a un programma personalizzato quindi si tratta ormai di una strategia che Proofpoint mette in atto da numerosi anni e che permette di avere una piattaforma che è composta come dicevamo prima da più di 35 lingue quindi nel caso di aziende che hanno sedi in tutto il mondo non è necessario che l'azienda si preoccupi della traduzione delle assessment ma ogni assessment è disponibile in più lingue le domande sono tradotte automaticamente dal sistema e quindi è in grado di comporre la piattaforma la parte di corsi anche con diciamo a seconda delle lingue che l'azienda necessita e questo è un aspetto decisamente importante è possibile effettuare la customizzazione della parte dei domini dei nomi introdurre i loghi dell'azienda all'interno del percorso di formazione quindi anche per rendere sempre più realistico gli attacchi o le diciamo la parte di formazione che si cerca di fare all'interno della piattaforma stessa infine diciamo attraverso il monitoraggio continuo quindi attraverso la parte di risk index messa a disposizione dell'azienda siamo in grado di andare a monitorare in tempo reale il livello di conoscenza degli utenti attraverso anche un confronto del risultato quindi attraverso anche tutto il monitoraggio degli utenti si va a capire se il percorso di formazione che inizialmente era stato pensato per gli utenti stessi come stanno rispondendo gli utenti gli utenti stanno partecipando al training non partecipano vanno sempre fuori diciamo che generalmente il training viene lanciato e l'utente ha un tempo dentro il quale deve cercare di completare questo processo di training e da lì si viene fuori che rispondono in maniera più reattiva gli utenti che a seguito di un ulteriore assessment quindi all'interno di un ulteriore questionario si capisce che riescono a rispondere meglio riescono quindi come abbiamo accennato anche nella dispositiva precedente diciamo oltre alla parte di formazione degli utenti molte aziende vogliono dar loro quindi la possibilità alla parte degli utenti di segnalare le mail di phishing che passano attraverso un gateway quindi attraverso come dicevamo prima un semplice click all'interno del proprio browser all'interno del proprio client di posta elettronica è possibile identificare selezionare questa mail come una potenziale una potenziale malevola questo come come avviene in realtà la fish alarm all'interno della piattaforma di security di learning è presente semplicemente il pulsante ovviamente l'intelligenza sta nella parte di protezione di posta elettronica quindi l'utente vede una mail clicca sul pulsante questa mail viene passata all'interno del fish alarm alanizer di proof point ed infine di fronte alle informazioni messe a disposizione da parte degli analisti più le informazioni che magari può avere la parte di management dell'azienda se la mail effettivamente viene riconosciuta come malevola è possibile con un semplice click andare a rimuoverla all'interno delle caselle di posta che gli utenti l'hanno ricevuta anche se essi sono annidati all'interno di liste di distribuzione ovviamente questa è una cosa molto molto importante perché io ho la possibilità di andare a fare il richiamo di una mail anche a posteriori e su segnalazione di un utente ovviamente tutto questo meccanismo appunto si chiama clear close loop email analysis response che appunto è la combinazione di due prodotti di proof point da un lato il fish alarm con il fish alarm e dall'altro appunto il trap quindi il threat response autopool andando un po' più rapidamente vista anche l'ora vi sono due diciamo due scendi sulla parte licensing della parte appunto di training la prima licenza è la anti-phishing suite dove sostanzialmente è concepita per le aziende che desiderano insegnare gli utenti identificare i identitativi di phishing quindi non vi è compresa la parte di assessment quindi la parte di diciamo così domande e risposta e vi sono identificate tutta una serie di moduli identificati per la formazione quindi una licenza un po' più limitata un po' più dedicata al phishing la seconda licenza invece il secondo taglio di licenza è quella enterprise che comprende ovviamente tutta la parte di cyber straight quindi tutta la parte di assessment sulle domande e poi tutta la parte di sui 30 moduli della sicurezza quindi non è diciamo limitata in ambito formazione ma è aperta su tutta diciamo la parte di formazione non solo la piattaforma enterprise mette anche a disposizione tutta una serie di materiale e di video per la formazione quindi se l'azienda ha dei punti dove ci sono dei video che fanno digital synergy posso andare a caricarci sopra del materiale messo a disposizione anche in questo caso diviso per lingue per la formazione continuativa degli utenti stampare delle brochure e quant'altro da mettere in bacchetta ok passiamo adesso alla soluzione di proof point per la parte di protezione della posta elettronica questa è una mail di phishing che generalmente riceviamo e in primo luogo le mail vengono inviate da un dominio look like che cosa si intende per dominio look like un dominio che a livello visivo per l'essere umano rappresenta ora in questo caso il dominio in Italy dove come si può vedere si sfruttano le ambiguità grammaticali per poter indurre l'utente in errore e quindi fargli capire che il dominio omittente è effettivamente il dominio originale che mi sto aspettando in secondo luogo la mail viene mandata da parte di un omittente che può essere un omittente accreditato all'interno dell'azienda come un team di helpdesk come un team di risorse umano e quant'altro quindi diciamo l'utente si vede arrivare una mail dalla propria azienda o almeno suppone che la mail arrivi dalla propria azienda all'interno della quale vengono richieste determinate informazioni il subject diciamo l'oggetto della mail generalmente è un altro elemento importante si richiede all'utente di fare un'attività successivamente ad un'attività aziendale del quale magari a lui è sfuggita una mail informativa o all'interno del quale magari diciamo non è chiaro che cosa dovesse fare concretamente infine anche sia all'interno del body che all'interno appunto dell'oggetto viene diciamo specificato continuamente per le tue sicurezza e quant'altro tenete in considerazione che nelle aziende particolarmente grandi la maggior parte degli utenti non è informato sui processi aziendali in ambito IT e quindi diciamo ha paura di poter essere da ostacolo di fronte ad esempio a un processo di migrazione di un server di posta elettronica e quindi magari è maggiormente invogliato la mail arriva da parte dell'helpdesk e mi stanno chiedendo di reinserire le credenziali all'interno di questo link oppure di verificare se riesco a accedere al nuovo sistema di posta elettronica perché non provare ovviamente la mail poi contiene un link di tipo malevolo e infine contiene un logo che è il logo effettivamente aziendale quindi quali sono diciamo le componenti messe in atto da parte della soluzione di posta elettronica della protezione della posta elettronica da parte di proof point innanzitutto una parte di prevenzione per quanto riguarda la parte anti impostore o anti fraude quindi verificare tutti gli attacchi di tipo back gli attacchi comunque possono essere mitigati attraverso l'analisi del dominio quindi tutti gli attacchi domain look like e quant'altro quindi gli attacchi tra virgolette un po' più semplici successivamente la parte di advanced threat detection che vediamo poi nel dettaglio successivamente la parte di maggiormente rilievo per la soluzione di proof point quindi andare a verificare quello che è contenuto all'interno del body e andare a cercare di capire se ci sono degli indicatori di compromissione se ci sono degli artefatti da andare a detonare all'interno di un ambiente di sandboxing e quant'altro ed infine effettuare la parte di post remediation quindi con la parte trap che abbiamo visto precedentemente ora su questa parte vi vado un po' più veloce anche perché magari siete più diciamo informati su questa parte comunque sostanzialmente una delle tecniche di protezione è ovviamente basata sull'adozione del dimark che comprende la diciamo la validazione sia per la parte spf che diciamo come molti di voi sicuramente sapranno è la validazione del mittente quindi attraverso la firma che è stata messa del mittente io vado a capire se effettivamente il mittente è colui che credo che sia la parte di kim quindi la validazione del contenuto la parte di mark è la combinazione di entrambe quindi vado a verificare che il mittente sia il corretto e che il contenuto della mail sia effettivamente quello che che mi aspettavo che fosse originariamente il secondo motore è la parte cosiddetta scss quindi l'analisi non più basata su silos come possono fare magari altre aziende altri competitor ma una un'analisi basata sul machine learning su quelle che sono le relazioni tra il destinatario e il sorgente mi spiego meglio se diciamo ognuno di noi riceve le mail da più o meno sempre gli stessi mittenti salvo fatto casi eccezionali ovviamente poi dipende anche dal ruolo aziendale la piattaforma prevede che se viene fatta un'analisi delle relazioni tra mittente e destinatario quando si verifica una nuova diciamo interazione quindi un nuovo collegamento perché magari ho un mittente nuovo che sta mandando una mail a un destinatario ecco a quel punto viene fatta un'analisi ulteriore quindi viene fatta una diciamo fatta una parte di controllo ulteriore per capire se effettivamente è corretto che quel mittente invii la mail al destinatario infine la parte appunto TAP che è quella che diceva anche prima Riccardo accennava Riccardo praticamente è la parte più mirata sulla threat intelligence messa a disposizione da proof point quindi si vanno a verificare gli artefatti contenuti all'interno di una mail quindi da un lato quella parte di classificazione phishing back credential phishing e quant'altro quindi per la parte non malware mentre per la parte malware e quindi tutta la parte dei threat viene analizzata sia su un ambiente di sandboxing multipiattaforma va bene sia su piattaforme di tipo bare metal quindi macchine fisiche all'interno del quale viene detonato il codice viene analizzato il codice per vedere il reale comportamento e tutto questo assistiti a degli analisti che mettono a disposizione il loro know-how quindi è facile diciamo capire che tutto il processo di analisi all'interno del contenuto di una mail viene diciamo così analizzato sotto forma sia di macchine sia di strumenti di threat intelligence che vanno a ricercare l'indicatore di compromissione presente all'interno di una mail sia per il codice visibile che per appunto per il codice non visibile come ultima informazione che vi passo abbiamo già parlato precedentemente la parte appunto trap quindi il threat response autopool che sostanzialmente in maniera del tutto automatizzata la piattaforma point attraverso dei connettori riesce automaticamente a richiamare una mail all'interno del sistema di posta elettronica quindi una mail che è stata deliberata agli utenti anche se essi sono contenuti all'interno di liste di distribuzione viene richiamata e viene automaticamente cancellata o quarantenata dal sistema proof point io direi che finita questa non avrei altre slide lascio a questo punto la parte di question e answer bene grazie grazie Niccolò grazie Riccardo grazie Francesco per le vostre presentazioni come dicevamo ad inizio webinar le domande possono essere poste direttamente tramite lo strumento di messaggistica istantanea le raccoglieremo le raccoglieremo in questi appunto questi minuti ad alcune ovviamente risponderemo live qua durante questi ultimi minuti che abbiamo insieme agli altri se ci saranno ulteriori domande risponderemo anche privatamente quindi vi invito veramente a scrivere le vostre domande tutte le vostre domande che avete nella chat e a quelle che riusciremo a rispondere risponderemo live e le altre risponderemo anche privatamente ovviamente questo l'avevo scritto anche nella chat l'avevo detto ad inizio del webinar la presentazione la videoregistrazione del webinar saranno condivise al termine immagino con i tempi tecnici per l'elaborazione nel pomeriggio quindi o domani nella giornata di domani condivideremo sia il video la videoregistrazione che quindi la presentazione in pdf e le riceverete direttamente all'indirizzo email che avete utilizzato per la registrazione al webinar di domani Grazie a tutti. Vediamo delle domande. A questo punto direi che aggiungo che se avete delle domande che magari emergono, vengono in mente in un secondo momento, potete scrivercele a promo-tecnosistemi.com e risponderemo poi privatamente. Ah, vedo, ecco la prima domanda da Sonia. Ci fa una domanda, Sonia, relativamente all'utilizzo che viene fatto degli strumenti e ci chiede quante sono le aziende in Italia che fanno uso dei vostri strumenti, quelli oggi presentati e di quale settore? Di quale settore? Vi sono anche aziende del settore pubblico? Ok, rispondo io Federico a questo punto. Allora, le aziende, sia lato Palo Alto, sia lato Octa, le aziende clienti in Italia sono migliaia. Ovviamente nel nostro caso abbiamo centinaia di clienti che si appoggiano a noi per questo genere di soluzioni, in realtà di qualsiasi tipo di vertical. Non ho avuto tempo prima di dirlo. Le nostre soluzioni non hanno un vertical specifico, né sul fashion, né sull'industrial, sul chemical o su cos'altro. Anche perché non abbiamo costruito una soluzione ad hoc in casa, abbiamo integrato soluzioni di terze parti e il mercato della cyber security, inteso sul mondo enterprise, è molto simile su tutte le vertical. Sono utilizzate anche dal pubblico, sì. Abbiamo un buon numero di clienti noi, inteso come system integrator, inteso come seven layers, questi vendor hanno ovviamente in Italia una buona parte di clienti pubblici. Poi naturalmente anche lì dipende dalla convenzione specifica per andare a usufruire del tipo di tecnologia. Bene, grazie Riccardo. A te. Sonia, ringrazia Sonia per la risposta e chiede se a livello regione toscana c'è una idea, è possibile avere un'idea della diffusione degli strumenti simili. Quindi quanti ne sono presenti a livello di regione toscana? Allora, regione toscana non è un cliente che noi in particolare seguiamo, quello che posso fare è sicuramente chiedere ai vendor, quindi a Proofpoint, a Octa e a Palo Alto, se possono condividermi dei dati di diffusione, soprattutto sulla parte di pubblica amministrazione, sulle amministrazioni regionali e in particolare come scrive sull'azienda del territorio. Esatto. Quindi questi sono dati che devo chiedere direttamente al vendor. Uno, perché magari non sono nostri clienti, nostri inteso come Seven Layers, due, se hanno dati che possiamo condividere. Bene, perfetto, grazie Riccardo. Inviso anche Sonia Ceccherini a approfondire insieme a noi Riccardo e con Alessandro Paolo Ercio gli eventuali approfondimenti relativamente al tessuto industriale toscano, se ho interpretato bene la domanda. Si, indicava come dati di sintesi, quindi il totale. Comunque chiedo il dato assolutamente. Bene, perfetto, perfetto Sonia, ci siamo capiti perfettamente. A questo punto direi che le domande, se dovessero emergere ulteriori domande da parte di chiunque, Nelle prossime ore ovviamente, nei prossimi giorni potete iscrivere come dicevo a promo.tecnosistemi.com, vi risponderemo privatamente con il supporto di tutti. A questo punto vi ringraziamo, ringrazio i nostri relatori, ringrazio Seven Layers, quindi Riccardo Baldanzi per la disponibilità, Niccolò per la sua disponibilità e il nostro Francesco Salvini per la sua disponibilità. E vi invitiamo a prendere visione anche dei prossimi webinar, a seguire quindi la parte di gruppo LinkedIn che sarà condiviso al termine del webinar. Abbiamo creato un gruppo dove ci confrontiamo sui temi, su quelli che sono i temi legati a questo periodo delicato e come rispondere a questa necessità di smart working. E anche quello sarà un modo per condividere appunto delle opinioni, domande e risposte. E lì potrete trovare anche le prossime iniziative che sono numerose nelle prossime settimane che stiamo appunto costruendo su questo tema. Grazie a tutti allora e una buona giornata.